Buongiorno ragazzi, allora ripercorriamo le ultime tre lezioni sul regno dei funghi. Il regno dei funghi è un regno molto particolare, per cui non è né il regno animale né il regno vegetale, per cui non c'è la fotosintesi glucofiliana, non hanno una bocca, per cui non possono essere chiamati animali, e non hanno la fotosintesi, dunque non sono piante. È un regno a parte. In questo regno fanno parte i funghi, veri e propri, diciamo, quelli che noi chiamiamo funghi, poi ci sono i lieviti e le muffe. Cominciamo a parlare del regno dei funghi, parliamo dei funghi in modo particolare, sono degli animali, sono scusate, possono essere unicellulari o pulicellulari, unicellulari sono i lieviti, pulicellulari sono sia i funghi e sia le muffe. Allora, come vedete, questo è il corpo fruttifero che noi guardiamo, ma in realtà il vero fungo sta sotto e si chiama micelio, ok? Ed è formato da tutte queste stanghettine piccole piccole che si chiamano ife, ok? Tutte queste ife si trovano anche nel corpo fruttifero, tant'è vero che se noi lo dovessimo tagliare è identico alla parte sotterranea. Qual è la diversità? Che se si vedesse al microscopio e non lo schiacciassimo, vedremmo che all'interno ci sono delle spore che servono per la rigenerazione di nuovi funghi. Ecco qua, questa è una parte del micelio che è messo al microscopio. Vedete tutte queste ramificazioni? Sono le ife che formano il micelio, che è sottoterra, e queste piccoline qua sono le spore. Le spore, vi ricordate gli sporangi, le spore? Una volta mature esplodono e milioni e milioni di spore vengono distribuite nell'aria e nel terreno, trovano un terreno umido, fondamentalmente deve essere umido, e lì si crea un nuovo micelio. La possibilità della rigenerazione, della riproduzione dei vari funghi è molto diversa, però diciamo, con le spore sono quelle più usate come riproduzione dei funghi. Questo, come vedete, sembra un pochino verde, la ci viene in mente che forse ha la funzione plurofiliana. Assolutamente no, non hanno funzione plurofiliana. Ci siamo. Per cui questo è il corpo fruttifero e questo è uno tra i più velenosi, perché purtroppo i funghi ci sono quelli buoni, come i porcini, ma ci sono anche quelli molto velenosi. E questa è la manita falloide, che è veramente molto molto pericolosa e può creare dei seri problemi. Anche questa, che è molto bella a vedere con queste vescicoline bianche, ma anche questa, che si chiama manita muscania, anche questa è molto molto pericolosa per l'uomo. Che cosa succede? Vedete, questo è il classico corpo fruttifero con il cappello. Abbiamo detto che non tutti i funghi hanno il corpo fruttifero, mi raccomando. E in mezzo a queste lamelle si dannitano le spore. E a questo punto poi queste spore vanno a generare nuovi miceli, nuovi funghi. Questo è un fungo molto particolare, perché noi immaginiamo, ripeto, sempre anche il corpo fruttifero, sempre col gamba e il cappello, ma in realtà non è così. Ci sono funghi completamente diversi da quelli che noi immaginiamo. Questo è un fungo molto particolare, è un fungo puzzolente, che ha un odore veramente molto pungente, molto forte, ed è veramente particolare. Io per esempio in natura non l'ho mai visto. Poi abbiamo questi funghi particolari, che sono blu. Chiaramente i funghi più sono colorati e più probabilmente sono velenosi. Questa è un po' una massima per tutti. Comunque mai utilizzare i funghi, mangiare i funghi, se non si è certi al 100%. Altrimenti si porta a farlo controllare da un micologo e ti può dire realmente se è mangereccio oppure no. Questi invece sono l'ovulo buono, per cui sono commestibili. Li chiama ovulo perché in realtà se lo vediamo assomiglia molto al torro dell'uovo. Questi sono i chiodini, che sono una famigliola praticamente di funghi, che vengono poi raccolti da un unico micelio, che poi è al di sotto. Ricordiamo che il micelio è allargato. Questi sono i funghi porcini molto noti. Una cosa che mi sono dimenticata di dire, che invece è fondamentale, è che i funghi pruricellurali sono eterotrofi. Cosa vuol dire? Che sono come noi, si nutrono dall'esterno, hanno una digestione e devono prendere il materiale da poter utilizzare per loro stessi dall'esterno, non come le piante che trasformano con la fotosintesi colofuniana. E come fanno? Mandano fuori un liquido dalla ife, mandano dalle ife, dai vari pezzettini che si vedono e si intrecciano, a quel punto decompongono, perché sono dei grandi decompositori, i funghi, e a quel punto quello che hanno decomposto lo assorbono. Ok? Questo è un altro tipo di fungo, che si chiama ammensola, generalmente si trova attaccato ai vari alberi, ok? E si trova generalmente meno sul terreno e più sui tronchi degli alberi. Adesso cambiamo totalmente. Questi sono sempre dei funghi, fanno parte del regno dei funghi, e sono i lieviti. Sono unicellulari, ve lo ricordate? formati da un'unica cellula. Ci siamo? Allora, come si riproducono? Si riproducono con la gemmazione. Vedete qui questi pezzettini piccolini? Ecco, si stanno formando delle gemme. Questi corpuscoli piccoli si staccheranno dalla cellula madre, piano piano continueranno a crescere, diventeranno identici alla cellula madre. Come abbiamo visto per le spore che vedevamo nella felce. uguale alla cellula madre perché non hanno la metà e metà delle sostanze del padre e della madre, ma hanno soltanto la cellula della mamma. E per cui rimane uguale, identica. Prima è piccola e poi crescendo diventerà più grande. A che cosa servono i lieviti? Per noi servono per due cose fondamentali. Vino e birra e il pane, la panificazione. Come avviene questo processo? Praticamente i lieviti, che non respirano, non utilizzano ossigeno, che cosa fanno? Incontano lo zucchero. In questo caso vedete che c'è il musto. Mentre viene schiacciata la pellicina dell'acino dell'uva, il lievito si mette in azione e con la sua azione, la sua energia, la sua fermentazione, perché così si chiama il giusto termine, la fermentazione, trasforma lo zucchero, in questo caso il glucosio, che è negli acidi dell'uva, li trasforma in alcol etilico e anidride carbonica. L'anidride carbonica è questo, essendo un gas, e crea bollicine. Questo si chiama fermentazione e così si forma il vino. Ma oltre al vino si forma anche la birra. Ma mentre il vino nasce dallo schiacciamento degli acidi dell'uva, questo dall'orzo in particolare, per cui che è un cereale, dal malto che è all'interno. E si forma questa schiuma ancora di più perché c'è una maggiore sviluppo di anidride carbonica. Ok? Però abbiamo parlato anche di panificazione. Ecco qua, noi prendiamo la farina e l'acqua, la meschiamo insieme, ma non succede nulla. È il pane azimo, è un pane croccante, buonissimo, ma non ha lievito. Se noi ci mettiamo il lievito insieme alla farina e all'acqua, si formano nel giro di 2-3 ore, queste bolle, le vedete? La pasta cresce, ma non perché diventa di più. Se le andiamo a pesare, è uguale, nel senso la consistenza. Ma cambia perché si forma l'anidride carbonica che si trova intrappolata nella pasta del pane o della pizza, eccetera, e a quel punto fa la bolla. Ok? Anche se la sostanza è identica, è solo che si è gonfiata. Questo lo vede la mollica del pane, fa questi bollici, questi buchetti. Questi sono dovuti all'anidride carbonica che ha allargato la massa del pane. Ok? Anche se la massa del pane non è aumentata, si è solo gonfiata, che è una cosa completamente diversa. Adesso andiamo alla terza parte del regno dei funghi, che sono le muffe. Le muffe generalmente sono bianche, verdi, giallastre. Sono dannose, ma sono anche utilissime. Hanno due sfaccettature. Queste muffe sono pluricellulari, non cellulari come i lieviti, ma non hanno il corpo fruttifero come i funghi, per cui non hanno né gambo, né hanno né cappello o altre forme. Hanno soltanto il micelio e le varie ife che si trovano al di sotto, va bene? È fondamentale. Se noi dovessimo vedere una muffa al microscopio, eccola qua, è anche bellina a dire la verità, no? Allora, queste qui non sono dei corpi fruttifori, assolutamente. Queste sono le ife, le stanghettine, vi ricordate? Il micelio sta sotto. E poi ci sono delle ife aeree. Aeree vuol dire che vanno verso l'alto. E poi queste sono tutte le spore. Sono tutti anellini di spore che vanno uno dentro l'altro. Lo vedete? Una sopra l'altro. Queste quando sono mature si espandono nel terreno o nella zona dove serve, per esempio, sui cibi molto spesso, o anche sui muri e hanno una prolificazione, cioè si sviluppano velocissimamente. Tant'è vero il proverbio, questo vale per tutti e tre tipi di funghi, si dice che è cresciuto come un fungo, cioè velocemente. Prima c'era e poi, prima non c'era e poi c'è quasi immediatamente. Ecco qui. Questo è al microscopio e questo è un disegno. Vedete? Questa è la parte del micelio, una ifa aerea e questo è lo sporangio. Vi ricordate? L'avevamo già visto nella felce. E poi all'interno ci sono le spore, ok? E vengono praticamente esplose. E a quel punto si creano nuove muffe. E si fa praticamente un tappeto di muffa leggerino, al di sopra di due elementi che vi ho appena detto. Ecco qua. Vedete? Questa sembra una ragnatela, ma in realtà è una muffa. E all'interno questi neri sono le spore. E tramite queste si costruirà nuova muffa, molto velocemente. Le muffe si creano anche sui muri, perché se c'è un'infiltrazione di acqua o un'umidità, questo crea il problema. Crea il problema perché, per esempio, soprattutto avviene in alcune stanze, ma soprattutto nei bagni dove c'è un vapore acqueo che si va a condensare, non c'è reazione sufficiente e lì si forma la muffa. Purtroppo le muffe possono creare anche dei problemi alla respirazione, per chi soffre di allergia. Ecco qua. Qua invece è quello che può avvenire sulla frutta. Ecco qua una patina di muffa. La vedete? Ecco, questa patina, se ne la lasciamo così, aumenta a vista d'occhio. Questo è all'interno e questo avviene perché comunque è umido. E se si trova in un luogo chiuso, e se si trova in umidità e al buio, ancora c'è maggiore proliferazione. Ecco qua quello che avviene nel pane. Un po' quella che abbiamo visto. Eccolo qua. E mai, assolutamente mai, se c'è una fetta di pane, una parte è ammuffita e l'altra no, quella parte va mangiata assolutamente no, perché queste noi le vediamo ad occhio nudo, ma gli sporangi possono stare ancora all'interno e possono creare dei seri problemi alla vostra salute. Per cui mai, se il pane, ma anche una piccola parte, è ammuffito, è bene gettarlo tutto. Anche qua il formaggio, lo vedete? È ammuffito e non è il formaggio di cui vi parlerò dopo. Il formaggio però, in questo caso, la muffa, se invece la togliamo tutta e aumentiamo un pochino di due centimetri e mezzo, circa, possiamo mangiarlo, cosa che non possiamo fare con frutta e verdura, perché essendo morbida, con facilità le spore entrano all'interno, per cui è bene non mangiarlo assolutamente. Questo invece è la muffa che ci è utile, perché ci crea questo formaggio, il gorgonzola, ma ce ne sono anche altri, che utilizzano le muffe, la proliferazione delle muffe, per poter creare questi tipi di formaggio molto saporiti. E poi l'ultimo, importantissimo, la penicellina. La penicellina è stata scoperta casualmente intorno al 1928 da Fleming, perché se era andato in vacanza, aveva lasciato delle lastre non pulite con dei batteri, con dei microbi, e quando è ritornata ha trovato che c'erano delle sostanze sopra, questa muffa, e che aveva ucciso parte dei microbi. A questo punto ha fatto degli studi, ma non è stato ben compreso, e il lavoro è rimasto lì. Poi dopo tanti anni, intorno al 1940-45, altri due scienziati hanno continuato il suo lavoro, e finalmente è stata utilizzata questa sostanza, questa muffa, che si chiama penicellina, da penicellium notatum, questa penicellina, che ancora oggi viene utilizzata, ed è stato il primo antibiotico che è riuscito a curare tantissime malattie, di cui si poteva morire tranquillamente, purtroppo, prima per una bronchite o una polmonite, prima si moriva. Con l'antibiotico diventa una malattia abbastanza facile da curare, per cui ha salvato veramente milioni di persone. Qui abbiamo lo schema di tutte le cose che noi abbiamo fatto, per cui parliamo dei funghi pruricellulare, i lieviti e le muffe pruricellulari. Abbiamo il fungo che è diviso in micelio, il micelio formato dalle ife, e il corpo fruttifero, che non tutti hanno, mi raccomando. Poi sono i terotrofi, non hanno la funtronenza colofuriana, e sono dei decompositori. Si riproducono con le spore. I lieviti sono cellulari, e servono per fare vino, birra e pane, e i pruricellulari, le muffe sono nocive, ma nello stesso tempo creano grandi soddisfazioni per quanto riguarda i farmaci e i formaggi. Soprattutto il farmaco ha dato tanta salute a tante persone. Alla prossima, bye bye.